Domani Fiumefreddo di Sicilia ospita la seconda edizione della Fiumefreddo Corre, gara podistica sul circuito cittadino che unisce lo sport all'impegno sociale sostenendo l'associazione Bambini Autistici Ionico Etnea Onlus, il servizio di Angela Di Francisca. Per il secondo anno consecutivo Fiumefreddo di Sicilia è pronta ad accogliere la Fiumefreddo Corre, gara podistica che si snoda per le strade della cittadina ionica. La manifestazione prevede due sezioni, una organizzata dalla ASD Atletica Virtus Acereale con il patrocino del comune di Fiumefreddo di Sicilia, la collaborazione tecnica della Fidal Catania e delle GGG Catania Alfio Vittorio Pistritto riservata ai professionisti e valida come tredicesimo prova del GP provinciale di corsa Senior Master riservata ai tesserati Fidal, Runcard ed EPS convenzionati regolarmente tesserati per la stagione in corso. L'altra è rivolta agli amatori e organizzata dalla ASD Etna Running e una corsa passeggiata non competitiva di tre chilometri a passo libero per le vie del paese. Questa sezione è rivolta a tutti, famiglie e bambini in particolare e rappresenta un'occasione unica per socializzare e vivere una giornata di sport, benessere e divertimento. Sì, è la seconda detenzione che si tiene e l'ultima tappa del GP provinciale della Fidal. La manifestazione si svolgerà in due parti. Nella prima parte della mattinata alle 8.45 parte la gara non competitiva organizzata dalla locale associazione, l'ASD Etna Running che coinvolgerà tutti gli appassionati di corsa e di camminata. Successivamente alle 9.30 avrà invece inizio la gara, quella riservata agli amatori e ai master, quella ufficiale della Fida e l'organizzata all'Atletica Virtus Ciriale. Finito questo poi ci sarà anche lo svolgimento di tutte quelle che sono le gare giovanili di categoria e quindi occuperemo tutta la mattinata. La manifestazione ha inoltre anche uno scopo benefico sociale perché parte del ricavato va a favore dell'associazione Bambini Autistici Oniquet Neonlus che ha sede proprio a Fiume Freddo. Per i professionisti il circuito cittadino si zonaderà da Piazza Francesco Aiez, Lungovia di Vittorio, Calvario, Della Chiesa, Marina e di Vittorio per un totale di un chilometro e mezzo. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL, Allievi, Senior, Master, Maschile e Femminile e le prime tre staffette di ogni categoria, Femminile, Maschile e Mista.